gentili telespettatori buona giornata benvenuti a questo video di tele italia mentre giovedì sera a palazzo chigi dove c'è la presidenza del consiglio con il consiglio dei ministri trovavano un accordo pd leu e movimento 5 stelle sulla prescrizione con giuseppe conte che benediva a destra e a sinistra italia viva era in disparte isolato e diceva ma è inutile perché che fate i conti senza l'oste perché l'oste sono io io ho i numeri per non far passare questa per non far passare definitivamente la cancellazione della prescrizione bonafede ha detto io non mi faccio minacciare da nessuno e renziari gli hanno detto caro bonafede fai bene i tuoi conti perché se noi votiamo contro anche tu non sei più ministro e andiamo tutti andiamo tutti a casa e matteo renzi abbastanza infastidito avrebbe detto queste parole se devo essere lasciato solo in una battaglia liberale se il pd addirittura rimuove dalla sua memoria la legge orlando per correre dietro alla follie alle follie dei grillini med in travaglio se non si accorgono di tutto questo allora tanto vale che io faccia l'accordo con salvini per andare ad elezioni all'indomani del referendum sulla riduzione dei parlamentari beh questo l'unica cosa che dice queste frasi è che intanto lui non ci sta con l'accordo per lui la cancellazione della prescrizione deve essere cancellata o congelata per almeno un anno per permettere di trovare una soluzione quale soluzione quella di velocizzare i processi e le soluzioni per velocizzare i processi ci sono e come se ci sono e come se ci sono come ho detto mille volte basta prendere i soldi del reddito di cittadinanza e ci assumi magistrati e ristrutturi le vecchie caserme di smesse per fare centinaia di aule di tribunali e vedi i processi come cominciano subito e finiscono dopo due mesi però voi sapete che le cose semplici in italia non sono poi così fattibile perché bisogna sempre complicarsi la vita e pensare che le soluzioni sono chissà quali invece no le soluzioni sono a portata di mano e semplicissime semplicissime quindi matteo renzi non ci sta rifiuta insomma l'ennesimo papocchio in odor di incostituzionalità perché attenzione già è incostituzionale aver cancellato i vitalizi e verranno ripristinati non perché io sia d'accordo su quella montagna di soldi data a 700 ex senatori è solo per il fatto che la legge non è retroattiva quindi non si può punire facendo una legge oggi su quello che è successo quello che si è fatto ieri questa è incostituzionale come è incostituzionale la cancellazione della prescrizione perché è incostituzionale perché la legge italiana prevede il la ragionevole durata del processo sui libri di testo di diritto c'è scritto la ragionevole durata del processo e cancellando la prescrizione cioè che un processo può durare all'infinito non c'è nessuna ragionevole durata del processo e quindi anche questo è incostituzionale quindi grillini continuano a viaggiare sull'incostituzionalità che dovrebbe essere firmata e vietata da da mattarella attenzione non so l'abolizione dei vitalizi come sia potuta passare perché è incostituzionale se l'ha firmata mattarella mi chiedo come abbia potuto firmare un qualcosa che è incostituzionale ma interviene anche anche d'alema d'alema dietro nelle retrovie è il consigliere ombra di leu liberi e uguali anche di quasi mezzo pd che dice sull'isolamento di di renzi dice attenzione anche un pesce grosso se gli togli l'acqua si spiaggia come le balene il pesce grosso se non interpreto male è il pd se gli togli l'acqua si spiaggia nel senso se gli togli la possibilità di governare e non lo può più fare è finito quindi se se renzi toglie i senatori il pesce grosso si spiaggia intanto nel nel consiglio dei ministri franceschini litiga con maria elena boschi tonni ruvidi alla fine franceschini dice il quirinale farà quello che dico io poi si rende conto e si ridimensiona e dice volevo dire che poi sarà il presidente a decidere se firmare o meno cose che capitano quando la dialettica politica tocca i fili dell'alta tensione e intanto hanno continuato a rinfacciare a maria elena boschi come se fosse una mostruosità di insulti c'è maria elena guarda che hai le stesse posizioni della lega come dire questo è un insulto terribile sai come la lega non non ti potrei dire di peggio no ma lei a un certo punto ha risposto non è questo accostamento e mi imbarazzi non è che questo accostamento mi imbarazzi come dire ma ma smettetela di dire queste robe qua cos'è perché se se io fossi sulla stessa linea lega qual è il problema no quindi è una risposta abbastanza piccata e quindi il pd praticamente salvaguarda il rapporto coi 5 stelle quindi l'anima populista massimalista della coalizione e lascia da parte l'anima liberale garantista cioè correnzi proprio per per l'alleato 5 stelle che sulla prescrizione non vuole sentir storie però attenzione non vuol sentir storie di maio vi ricordate che non voleva sentir storie sulla modifica del messe poi l'ha firmato di maio non voleva sentir storie su una finanziaria delle tasse e poi l'ha firmata quindi quando io ve leggo che i grillini non vogliono sentir storie sulla prescrizione dico vabbè beh fino a un certo punto e poi firmano l'opposto ma renzi non vuole che la sua il suo che il suo ago della bilancia diventi poi superfluo magari qualche deputato di forza italia vada in soccorso del governo per garantirsi un posto di lavoro in futuro nella prossima legislatura nel pd e così possa neutralizzare il centro che è diventato il centro e lago della bilancia che è diventato proprio matteo renzi perché matteo renzi per ego personale vuole essere al centro dell'attenzione però al suo centro dell'attenzione deve poi seguire un qualcosa che lui ritiene interessante cioè andare più in alto possibile nei voti e nel governo renzi non si accontenta di partecipare no un po un po come alla jeppe gambardella nella grande bellezza renzi non voleva solo partecipare ai governi voleva il potere di farli fallire vi ricordate jeppe gambardella nella grande bellezza queste le parole di matteo renzi che dice mi sono stufato e anche arrabbiato con uno dei forzisti che sta mettendo in piedi un gruppo parlamentare in senato filo conte di impegnarmi su temi liberali e riformisti da solo per fare certe battaglie bisogna avere delle truppe in parlamento invece sono tutti contro tutti contro di me ma ti pare possibile che l'unica preoccupazione del pd sia quella di evitare che i delusi di questo quel partito vengano da me che lo stesso atteggiamento abbia conte che addirittura consiglia renata polverini di unirsi con il gruppo dell'ex grillino lorenzo fioramonti invece di venire da me e che voi che dovreste condividere certe battaglie mi isolate e mirate a mettere in piedi un gruppo al senato per diminuire il mio peso nella coalizione di governo se è così se conte riesce a trovare 20 senatori forzisti per fare la politica di travaglio faccia pure si accomodi ma io non ci sto o altrimenti cambi per evitare che io faccia davvero l'accordo con salvini per andare alle urne dopo il referendum se si va al voto io prenderò sicuramente il 4 per cento ma probabilmente di più se nel frattempo mi libererò della zavorra di questo governo molti di voi invece non torneranno in parlamento e poi aggiunge uno è stato il suo ragionamento può dire ciò che vuole ma se il pd per tenere in piedi questo governo è disposto a diventare giustizialista come buona fede a gettare la legge orlando alle ortiche e ripetere quello che fece salvini per tenere in piedi il governo giallo verde io non lo accetterò ma ti pare che con il con il problema in cina la guerra in libia il problema delle infrastrutture l'economia in crisi dobbiamo stare appresso alle follie di buona fede intanto franceschini chiede ai suoi ma ma secondo voi matteo fa sul serio o no ricevendo silenzi e risposte contraddittorie qui è stata la sua conclusione dobbiamo accelerare nel nell'approvazione della legge elettorale proporzionale così costringendo tutti a rifare i conti e strategie la situazione si stabilizzerà e no i cicci belli drin drin e se voi spingete per la legge elettorale cambiarla matteo renzi fa cadere subito il governo se la legge elettorale cambiata con la soglia di sbarramento al 5 per cento al posto che al 3 taglierebbe fuori renzi per la prossima legislatura e lui farebbe voterebbe sicuramente di no per far cadere subito il governo quindi a volte io non comprendo questi politici hanno delle teorie assolutamente non coerenti e non e non non reali non so chi gli passa per la testa come non capire che cambiare la legge elettorale farebbe subito far cadere il governo da parte di renzi che forse è quello che vuole proprio il segretario del pd nicola zingaretti io vi ringrazio per avermi ascoltato vi invito ad iscrivervi al canale l'iscrizione è gratuita nella community trovate tanti sondaggi a cui potete partecipare e siamo anche in facebook nella pagina tele italia dove trovate tutti gli stessi video presenti su youtube che potete assolutamente condividere con chiunque voi vogliate in internet e fuori da internet io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata arrivederci